amici del leone buongiorno anche per voi c'è l'oroscopo generico per tutto il mese di settembre un po' quali saranno diciamo i fattori principali che possono accadere nel mese di settembre e poi andremo a vedere settimana per settimana nello specifico ok che cosa accadrà e cosa insomma si può fare per sapere quel qualcosina in più per cercare di risolvere al meglio le situazioni abbiamo deciso di o inteciso ho deciso di integrare con questi video per rendere magari le cose un po' più più piene più piene di significati più piene di notizie se si può aiutare e cercare di sapere insomma quel qualcosa in più tamponare o vedere un attimo come come fare perché no allora voi entrate da entrate nel mese di settembre con un'energia di chiusura vi sentite chiusi come in una situazione di fermo in una situazione di stasi è come se fosse è come se fosse che state attendendo qualcosa qualcosa che vi possa gratificare che vi possa far bene e state sperando in questo in questo qualcosa di diverso avete bisogno di un qualcosa di diverso o che un certo tipo di situazione cambi in modo positivo o desiderati o avete un obiettivo che attualmente vi siete dovuti fermare per altre ragioni per motivi x e quindi attendete state sperando che questa situazione fatto avvenimento è si trasformi in qualcosa di positivo siete innamorato o innamorata giustamente desiderate un rapporto stabile desiderate proprio la stabilità la la casa avete voglia di di un qualcosa chiaramente per chi è single avete bisogno che accada qualcosa per farvi star bene per tornare la sera a casa e avere comunque qualcuno oppure per chi è invece in coppia certo siete innamorati ma non non state bene in casa perché probabilmente c'è una situazione che non vi sta non non vi fa star bene e quindi volete tornare ad avere quella stabilità proprio la desiderate desiderate una stabilità in casa in coppia attualmente non non state bene dentro ok quindi è come se fosse che sì come ho detto prima siete insoddisfatti magari volete riappacificarvi per chi si è lasciato o per chi invece solo come ho detto ha bisogno di un nuovo nuovo amore state in pratica attendendo che qualcosa succede che qualcosa arriva però questa attesa ok vi causerà qualche piccolo problema in che senso avrete delle notizie che comunque non vi piaceranno magari volete tornare a stare bene con vostra moglie vostro marito il vostro compagno la vostra compagna ma c'è quel qualcosina che vi turberà ancora di più state frequentando qualcuno magari pensate che il rapporto si consolida ma ci sarà quel qualcosa che magari saprete o che capirete o che vi direte dove vi blocca e vi creerà magari malumore malessere e quindi continuerete almeno per la seconda settimana seconda settimana di settembre continuerete ancora a sentirvi bloccati magari si presenteranno delle situazioni piacevoli perché possono essere piacevoli ma perché vivete ancora questo blocco ve le lasciate scappar via non li afferrate non li accettate perché magari avete il cruccio nella vostra testa il vostro pensiero e che vi sentite raggirati oppure siete voi che raggirate perché poi sommariamente in quel momento vi state solo divertendo anche se volete la stabilità perché magari vi state divertendo perché attendete una persona in particolare o perché magari volete che la situazione a casa si sistemi però anche voi cioè vivete talmente con leggerezza che non fate nulla per avere un qualcosa c'è positivo nel senso che parlate io voglio 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 ma poi neanche voi fate un passo per desiderate 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 ma neanche voi fate un passo per arrivare comunque e perché siete bloccati quindi preferite vivere di più delle situazioni dove si ci sperate però poi sapete perfettamente che sono delle situazioni spiacevoli e vi è molto più facile perché voi siete veloci a lasciare andare e infatti quando vi accorgete che c'è qualcosa che non va magari c'è la discussione c'è la litigata e quindi vi allontanate invece se lì vivete eventualmente una situazione dove magari c'è un qualcosa che a voi non piace perché siete stati scottati in passato l'andate magari a chiarire potete anche vedere il punto di vista dell'altra persona e torniamo sempre alla stessa cosa il cercare di capire l'altro uno può capire tutti tutte le esperienze negative che avete comunque avuto però non è detto che tutte le persone o tutte le situazioni che si presentano sono per forza in un determinato modo in base a come le avete vissute in base a come vi siete comportati cercate di comportarvi magari diversamente quindi aprite la mente pensate positivo trovate anche la positività nelle situazioni in quello che eventualmente non non vi piace anche se ripeto ricevete delle cose che secondo voi dite no io da qua non mi smuovo cioè la vedo così per me deve andare così punto e basta no cercate di aprire la mente avete bisogno sì proprio di rivedere la vostra casa piena con qualcuno dentro se non c'è nessuno oppure se siete in coppia con l'armonia avete proprio bisogno che il cuore si scalda ma questo verso la terza settimana di settembre siete anche un po' in confusione voglio non voglio provate porca miseria provate cioè se non provate non ripeto non vi arriva nulla avete bisogno proprio di guardarvi dentro di pensare di di vedere veramente a cosa volete e poi tenetevi le cose comunque per voi stessi non andate a raccontarle a chiunque perché magari avete modo che gli altri possano darvi quel consiglio sbagliato possano mettervi in testa un'idea o un qualcosa che magari non è il vostro modo di pensare di ragionare e quindi andate a fare soltanto gran caos e grande confusione la situazione prima o poi prenderà comunque una svolta però dovete attendere perché comunque potete fare una qualsiasi cosa cioè non dipende da voi la situazione può prendere una svolta in senso positivo o negativo e quindi la carta ci invita di andare comunque avanti di proseguire comunque di andare voi avanti e di proseguire per la vostra la vostra vita avete comunque dei dubbi proprio perché la situazione il fatto che non prende la piega giusta e vi iniziano a venire dei pensieri certo che vi vengono la risposta comunque la conoscete la risposta è già dentro di voi e sapete perfettamente il perché magari non prende piega quindi cercate di anche voi fare magari quel passo quel passo in più ci possono essere delle situazioni verso la la fine del mese delle situazioni che vi faranno tanto male possono essere delle situazioni pesanti un avvenimento un avvenimento un qualcosa magari ecco vi faccio un esempio non vi distraete in macchina perché potete avere un incidente questo è uno degli esempi dovete infatti prestare attenzione prestate attenzione anche alle vostre situazioni alle vostre situazioni anche burocratiche non non vivere così alla giornata ancora sulle nuvolette cioè se volete una stabilità dovete anche tenere i piedi ben saldi e quindi cercare di comportarvi da persone mature e non immature non vi potete aggrappare a tutto quello che la vita vi offre cercando un pizzico di speranza qua e là quindi anche perché sapete perfettamente che un certo tipo di situazione che voi vivete comunque vi porta a rimanere solo che sia un inizio di relazione non prende la piega giusta che sia una convivenza o un matrimonio non prende la piega giusta cioè prima o poi ecco perché la risposta la conoscete dentro di voi prima o poi ok chi si deve separare si separa chi deve perdere qualcosa prima o poi cioè se io al lavoro faccio un gran casino e vado avanti facendo soltanto gran casini cioè è normale che prima o poi mi licenziano quindi guardate dentro guardate non potete stare con le persone o usare le persone solo per i vostri interessi che sia nelle amicizie che sia il collega o che sia anche una relazione non potete assolutamente usare le persone perché le persone non vengono usate che dirvi questo è quanto per tutto il mese di settembre vi raccomando cercate di è un po' poche cose ma mi rendo conto che la maggior parte dipende da voi quindi cercate un attimo di riguardare le varie situazioni di affrontarle di diventare di diventare lo siete cioè di essere di affrontare magari determinate questioni con la maturità e se avete bisogno di chi vi scalda il cuore di una casa bella in armonia ve la dovete costruire dovete iniziare a mettere le fondamenta giuste per iniziare a costruire quello che voi volete e non prendere in giro la gente oppure vivere le storielle così tanto per perché non vi portano da nessuna parte io vi auguro una buona giornata una buona continuazione di settimana e ci sentiamo presto